Buonasera a tutti, come vi avevo già anticipato nel video di preapertura, è stata una giornata decisamente interlocutoria perché con la borsa americana chiusa i volumi si sono ridotti ulteriormente e a meno di dinamiche di volatilità impreviste che infatti non ci sono state, qualunque andamento sia a rialzo che a ribasso sarebbe stato necessario verificarlo da domani in avanti. Nonostante questo in realtà qualche spunto interessante c'è stato, abbiamo assistito a una prima parte di giornata più positiva e poi un calo anche piuttosto sensibile nel pomeriggio tant'è che dal massimo al minimo del FIB ci sono stati 300 punti e nel dettaglio vedremo anche qualche singolo tema perché effettivamente seppur in una fase direi di incertezza anche a livello più generale di mercato azionario qualche tema singolo interessante si riesce ugualmente a trovare. Vi condivido subito lo schermo, vi ricordo sempre per ricevere il video domani sera i 300 like, il video del mattino non li ha ancora raggiunti, se non li raggiungerà vorrà dire che domani mattina dedicherò più tempo al mio trading. Parto dal DAX come potete vedere perché essendo stati chiusi gli americani oggi facciamo i principali indici europei e poi ci dedichiamo ovviamente al Fuzzimib e alle storie più interessanti di giornata. Siamo in un trend laterale in questo momento, i famosi trading range e da domani probabilmente potremo capire di più la seduta di oggi è stata leggermente negativa, l'aspetto meno positivo è stata una chiusura sotto la media mobile a 50 15.941 perché ha chiuso a 15.824, credo che nelle prossime sedute potrà ritornare a testare 16.042, 16.060, eventualmente 16.140 e poi chiudere il gap a 16.240. Questa è la mia prima idea, la seconda invece che ha leggermente meno probabilità però dovessi dare delle percentuali direi 60 e 40 viene mantenuto il trading range per cui a quel punto sarebbe possibile un ritorno fino a 15.578, 15.571. L'importante è che non venga perso il minimo del 18 di agosto, 15.468 perché poco sopra transita anche la media mobile 200, 15.456 per cui verrebbe completamente negato il movimento attuale del Dax. Passiamo al Caccarant, grafico anche qui decisamente simile, come per il Dax persa oggi la media mobile a 50 7.311, chiusura a 7.279, anche qui trading range, come per il Dax ci sono due possibilità a livello di prossime sedute, un ritorno sui massimi del 30 di agosto 7.405 e poi eventualmente il massimo del 10 di agosto 7.464, scusate, oppure la perdita di 7.261 e a quel punto si arriverebbe fino a 7.196 che è il minimo del 25 di agosto, poco sotto transita anche la media mobile a 200, 7.167. Anche qui mi sento di assegnare più o meno le possibilità che ho dato al Dax, anche se forse qui sarei più su 55.45, vedo una prima divergenza ribassista su RSI. Eurostox ovviamente tendono a assomigliarsi molto i grafici, vedete che l'Eurostox in realtà la media mobile a 50 l'ha già persa il 30 di agosto, in questo caso la possibilità è o quella di rimanere in trading range e quindi 4.245, 4.219 e media mobile a 200, tra l'altro 4.221 quindi nei pressi, oppure superamento di 4.340 e target successivi massimo dell'11 di agosto 4.381, massimo del 10 di agosto 4.402. Andiamo a dare uno sguardo anche alle Eurostox banks, oggi pomeriggio le banche sono sicuramente venute giù, poi vi devo anche far vedere cosa ho trovato su Milano Finanza sul sito, vedete questa bella rialzista partita dai minimi del 27 di giugno, è a rischio, vi avevo già detto come l'Eurostox banks avesse dato un segnale piuttosto negativo con la Gravestone Doge del 30 di agosto, avevo detto che il 114.24 poteva anche essere massimo di breve periodo come sta effettivamente accadendo, se dovesse perdere la media mobile a 50, 110.15 avrebbe un primo obiettivo a 109.81, 109.47 e poi 108.62, sul settore bancario sono un po' più freddo e vi faccio vedere subito perché, perché vedete che alla fine forse tutte le mie preoccupazioni che il mercato aveva sempre ignorato e ha sempre ignorato fino ad ora non erano poi così campate per aria perché 38 miliardi di prestiti non pagati dalle imprese sinceramente se venissero diciamo calcolati e so che anche questo è un eccesso come perdite capite bene a livello di bilancio consolidato capite bene che non ci potrebbero essere quei risultati così clamorosi che le banche hanno già stimato per l'intero 2003. Adesso bisognerebbe, e non ho purtroppo il tempo di farlo, bisogna approfondire a che periodo si riferiscono questi 38 miliardi, però sicuramente la situazione a mio avviso, e questo un po' lo certifica, è meno rosea per il sistema bancario rispetto a quello che ci viene raccontato. Ve l'ho già detto, pur non essendo un contabile credo che ci sia una possibilità, rispettando le normative vigenti da parte delle banche, di scrivere sui bilanci un po' quello che reputano più opportuno perché se per loro questi 38 miliardi sono recuperabili non li metteranno come passività a bilancio, però la situazione è abbastanza preoccupante e vedremo in dettaglio tra poco anche qualche banca. Fuzzimib vedete stessa situazione più o meno del DAX, qui il livello più importante per il breve 28 mila 445, il primo allarme l'avremo sotto la media mobile a 50, 28 mila 565 e direi che rimane peraltro ancora la possibilità che ho già avanzato giovedì scorso in diretta su Classi NBC, ovvero 29 mila 330, 29 mila 420, chiusura del gap relativo al minimo del primo di agosto. Ovviamente non devono però tracollare le banche, ma adesso è nuovamente un semplice consolidamento. Oggi i contratti FIB molto bassi, poco più di 8 mila perché era chiuso all'America, deludenti anche gli scambi complessivi, 1 miliardo 373 milioni prima delle aste, ringrazio come al solito Renato per il dato, 1 miliardo 115, quindi oggi volumi piuttosto bassi e nemmeno particolari anomalie nelle aste finali come è accaduto nell'ultima seduta del mese di agosto. Veniamo adesso ai singoli temi. Il primo titolo di cui dobbiamo occuparci è ovviamente Telecom perché è stata decisamente la società a livello di Fuzzimib più comprata. Mi dispiace soltanto, io come sapete ho il titolo da area 027, ho il 5% del capitale del mio portafoglio di medio-lungo periodo su Telecom e se non avesse lasciato il gap avrei ancora preferito. Dopo la seduta di venerdì era giusto mettere uno stop profit per oggi a 0,292, bisogna alzarlo a 0,2963 da domani, però il titolo non sembra aver esaurito la sua verve e vedete che a livello di time frame settimanale potrebbe arrivare fino a 0,32, e 84. Ci sono ovviamente dei livelli di resistenza intermedi e il primo è 0,3094, poi abbiamo 0,3126, però rimango ancora piuttosto positivo su Telecom e devo dire che finalmente non sta come al solito deludendo. Aspettate che sposto un attimo questa schermata di qua. Allora, poi per il resto direi che l'altro titolo di cui bisogna assolutamente parlare è Fineco che finalmente si sta un po' risvegliando. Anche Fineco è un titolo che ho nel mio portafoglio di medio-lungo periodo, ha dato un segnale abbastanza importante oggi, anche se vorrei vedere una conferma domani, col io dico tentativo di rottura della 39 ribassista partita dai massimi del primo di agosto, ha qui una resistenza statica piuttosto importante rappresentata dalle medie mobili a 112,98,50, 13,026, target successivi 13,33,50 e poi chiusura del gap lasciato aperto a 13,46,50. Al momento vedo il titolo abbastanza ben impostato per il breve periodo, l'allarme sarebbe ovviamente sotto 12,39,50 con obiettivo 12,22 e mezzo e sotto purtroppo si aprirebbe un baratro. Veniamo adesso ai titoli peggiori perché gli altri migliori per esempio Pirelli, CNH, ecco vi posso far vedere un attimo al volo CNH per farvi vedere che anche qui sta confermando quello che vi avevo già ribadito nel video di riepilogo settimanale, io ho un obiettivo a 13,37 su Case New Holland, oggi è stata respinta dalla media mobili a 50, transitante per 12,96 si è fermata a 12,94 e mezzo e poi purtroppo ha chiuso a 12,88 un tic pieno sotto la media mobili a 100, però rimango moderatamente fiducioso, anche Pirelli vedete che sembra voler andare a cercarsi area 4,70 e poi man mano avere un obiettivo multiday fino a poco sopra area 4,90. Dicevo veniamo però ai peggiori perché Montepaschi nonostante le dichiarazioni di Tajani, quelle di Giorgetti magari rilette invece erano meno possibiliste soprattutto in tempi brevi come paventava Tajani, io vi ho detto chiaramente che vedo il titolo almeno in area 2,40, oggi ha perso la media mobili a 50, 2,502, ha chiuso a 2,44,2 dopo un minimo a 2,43,1, è andata anche vicino a pochi tic, mi sembra fosse 2,42,3 alla sospensione per il cesto di ribasso, quindi target 2,402, poi 2,39 e mezzo sotto questo doppio minimo sporco la situazione diventerebbe più pesante perché un primo target è sicuramente rappresentato dalla media mobile a 102,34,7, poi abbiamo 2,33,1 minimo dell'11 di luglio. Altro titolo che oggi è stato venduto è Saipem, credo che sia ancora legato alla emissione del bond da 500 milioni che giovedì aveva causato il gap down sul titolo, rimane questo ottimo supporto dinamico che è la media, scusate la trendline rialzista partita dai minimi del 26 di giugno, se non tiene questo livello però è probabile un ritorno fino alla media mobile a 50,1,43,4 e poi 1,39,85, 1,39,5. Tra i bancari il più debole stato a livello di larghe capitalizzazioni, banco BPM, il titolo adesso mi sembra un po' arrivato, se dovesse perdere il minimo di oggi 4,28,1 si andrebbe subito a 4,21,7 e poi probabilmente sulla media mobile a 100, 4,11,1. Guardiamo ancora Prismian che oggi ha dato a mio avviso un brutto segnale, nel senso che se io avessi avuto il titolo avrei applicato uno stop profit sotto 37,5, ha chiuso a 37,31 dopo un minimo intradale 37,28, primo obiettivo 36,6, poi media mobile a 50, 36,54 e media mobile a 100, 36,3. Siccome abbiamo un po' di argomenti di cui parlare anche fuori dal Fuzzimib, dedichiamoci a tutta una serie di titoli che oggi hanno fatto bene e meno bene perché possono ovviamente diventare interessanti per le prossime sedute. Direi che potremmo partire da Innovatec, ve ne avevo già parlato questa mattina perché prima dell'open era uscito il comunicato stampa che avvertiva della presentazione del nuovo piano industriale se non era ora il 19 di settembre, poi magari correggetemi nei commenti se mi sono sbagliato, io vi ho detto che temevo, ipotizzavo una correzione fino a 1,19,1 ma che per il medio periodo per i volumi che sono entrati in questa fase dal 25 di agosto in avanti avrei visto il titolo fino a 1,48 e eventualmente fino a 1,53,5. La positività di oggi un po' mi sorprende, in realtà è poco di più di una candela inside con tra l'altro il massimo inferiore al massimo di venerdì e il minimo inferiore al minimo di venerdì, se non sarebbe stata una candela inside perfetta, vediamo se si mette in laterale adesso un supporto potrebbe essere la media mobile a 50, 1,27,2 e poi il minimo di oggi è stato 1,26, quello di venerdì 1,26,2 però sicuramente è un titolo da monitorare. Poi grande recupero di Ariston che sinceramente non mi aspettavo perché mi sembrava volesse rimanere un po' più in laterale, in effetti potreste farmi notare che il massimo del 30 di agosto 7,59 oggi non è stato superato avendo fatto un massimo a 7,58, però il titolo è stato scambiato piuttosto bene, è vero che di recente ha fatto i propri minimi storici a 6,73, però mi sembra si stia impostando per continuare la fase di recupero fino a 7,89, 7,89 e mezzo e probabilmente il target successivo sarà il massimo del 7 di agosto che è 8,2. Poi seppur con volumi modesti c'è stato un recupero nella seduta odierna di SOS Travel, l'aspetto più importante perché per i dati bisognerà aspettare fine mese è verificare se la tenuta di quest'area poco sopra 1,20, in fondo 1,23 era il massimo relativo precedente riuscirà a tenere nelle prossime sedute, a quel punto potrà partire un rimbalzo con un primo obiettivo 1,38 e poi 1,54 e mezzo. Visto che me l'ha continuata a chiedere in tanti scrivendomi via mail a info-andrea-cartisano.it guardiamo anche Travel, Travel in realtà ha scambiato molto poco rispetto a SOS, qui abbiamo sì una candela inside ma è già importante che il titolo non perda questo minimo del 18 di agosto che è 7,82 perché se si mette in laterale poi è possibile prima un ritorno 8,48 e poi 8,98 e 9,16. Vediamo che sicuramente è opportuno parlare di Eurotech perché oggi ha dato un segnale fortissimo. Sono sincero con voi, tante volte è difficile anche per me come per tutti i trader esperti capire questo mercato perché dopo il meno 5,43 del 23 di agosto e il meno 2,43 con titolo che stava ribadendo i minimi di periodo in area 2,80, rivederlo oggi quasi a 3,15 in realtà ha fatto un massimo in 3,16 non è compito facile. Io ho notizie e non ne ho trovato, anche qui ogni tanto chiedo magari a voi aiuto nei commenti se invece avete visto qualcosa perché io sto ancora cercando di riorganizzarmi per tornare a pieno regime e mi ci vorrà ancora qualche giorno. Di certo il titolo superato la media mobile a 200 è 3,084 e punta abbastanza spedito fino al massimo del 22 di maggio che è 3,21. prendiamo un time frame settimanale per vedere che il target successivo c'è un 3,23 e poi si va addirittura sopra area 3,40, 3,42 e 8. Tra l'altro volumi anche piuttosto buoni per Eurotech. Altro titolo che si è comportato piuttosto bene è Size Getters, qui abbiamo un breakout molto importante perché c'era questa resistenza statica di area 30, visti anche i volumi non mi stupirebbe vedere il titolo nelle prossime sedute a 31,3 e poi a chiudere il gap lasciato aperto a 32,2 sul minimo del 30 di marzo. Un altro titolo di cui vi parlo molto volentieri perché sono entrato oggi in apertura e a Scopiave io ho valutato questo box di congestione come un trading range in cui il titolo stava cercando di accumulare, per le prossime sedute mi aspetto almeno un target in area 2,30 e poi sino alla media mobile a 100, 2,41 e 3 e quindi quella 200, 2,51 e 1. ovviamente essendo stata forte Telecom anche la risparmio a seguito analizziamo anche la risparmio perché so che molti di voi comunque hanno anche la risparmio, qui a differenza dell'ordinaria non ci sono stati gap lasciati aperti, i target sono a questo punto 0,30 e 64, 0,30 e 82 e poi il movimento può essere completato fino al massimo del 6 di marzo che è 0,32 come per Telecom ordinaria bisogna iniziare a valutare nell'ottica di stop profit vi dirò che per la risparmio lo metterei anche già sotto 0,29 e 24 poi mi scuso con voi ma il lunedì mattina sono particolarmente impegnato per cui non ho letto benissimo la notizia di Solid World so che all'inizio il titolo ha provato a rompere al rialzo è stato respinto dalla media mobile a 200, 3,61 ha fatto un massimo a 3,58 mi sembra che questa voglia di rottura ce l'abbia per cui nelle prossime sedute un target a 3,68 e poi fino al massimo del primo di agosto 3,90 potrebbe anche raggiungerlo mi raccomando sotto 3,29 personalmente chiuderei ogni posizione rialzista poi un titolo del quale vi parlo abbastanza spesso e che continua a dare diciamo dei segnali di vivacità è IWS perché vediamo se ecco infatti non aveva caricato la candela perché oggi è stata abbastanza comprata perché vi parlo di IWS il leader in Italia delle macchine che distribuiscono bevande e snack perché è da diverso tempo che c'è interesse sul titolo al di là del trend, lo vedete palesemente questo trend rialzista minimi del 16 di maggio tiriamo una trend line vedete come sostiene bene il titolo valeva lì, aveva fatto un minimo a 3,76 siamo arrivati a un massimo di periodo a 5,68 il 16 di agosto però credo che abbia voglia IWS di tornare proprio sui massimi di periodo a 5,68 diamo uno sguardo anche al potenziale breakout perché dobbiamo tornare molto indietro se rompesse il 5,68 può arrivare fino a 6,02 ma dobbiamo tornare addirittura alla prima metà di aprile del 2021 poi concludiamo con Tecnogym io anche dove vengo umiliato la professionalità che spero mi riconosciate mi obbliga a parlarvene perché io avevo il titolo a livelli leggermente superiori agli attuali prezzi di mercato e ho chiuso in perdita il 23 di agosto comunque adesso invece sembra che il titolo voglia rimbalzare un primo obiettivo può essere la media mobile a 200 8,12 poi media mobile a 50 8,18 e 8 e direi che il movimento di rimbalzo può completarsi in area 8,50 adesso invece veniamo a quelle che io chiamo note dolenti quindi ce ne sono alcune davvero dolenti innanzitutto visto che è una mid cap e so che qualcuno la segue non facciamoci condizionare dal tifo calcistico ma cerchiamo di analizzare la società quotata per provare comunque a guadagnare i soldi poi ci sono alcuni tifosi che giustamente dicono Juventus neanche sotto tortura non tanto ci metti i soldi manco la guardo però il segnale di oggi è piuttosto negativo cosa vuol dire? che area 0,36, 0,37 ha fatto il suo dovere il titolo non è riuscito a rompere oggi è stata molto venduta a Juventus ha chiuso praticamente pochi tic sopra la media mobile a 50 0,34 e 4 e sembra possa proseguire nella fase di correzione direi fino almeno a 0,33 e poi sulla media mobile a 100 che è 0,33 poi direi che dobbiamo parlare assolutamente di Portobello perché dopo il rimbalzo in seguito all'accordo con l'agenzia delle entrate il titolo era passato da 12.8 a 15.5 oggi seduta di vendite potrebbe tornare di nuovo a 13, 12.8 io vi ho già detto che preferisco in questo momento non tradare il titolo WeBuild oggi è stata venduta ma credo che sia una risposta a rally soprattutto di giovedì vi ricordate penso l'abbiate letta quella notizia per il raddoppio della commessa in Australia oggi brutto segnale perché perde anche la media mobile a 101,83 chiude a 1,81,3 è importante la tenuta di 1,77,3 poi abbiamo media mobile a 200 scusate a 50 1,75 e mezzo media mobile a 200 1,75 chiusura il gap 1,72,7 poi bisogna anche abbandonare per il momento Italian Design Brand perché oggi rompe in maniera importante i minimi storici quindi altro titolo che bisogna al momento lasciar stare Neo Experience corregge dopo i rally aspettate che dopo rally di venerdì ma candela praticamente inside quindi un titolo sempre da tenere monitorato perché i volumi stanno aumentando ovviamente significa il range 1,85,203 di venerdì fa proprio da range per il titolo nelle prossime sedute per come si è impostato io credo più in un'uscita rialzo piuttosto che un ritorno alle origini per cui direi almeno 2,05 e poi 2,13 2,14 andiamo avanti vediamo se troviamo qualche altro titolo che abbia scambiato dei volumi abbastanza significativi e direi che possiamo occuparci di Avio Avio è in una situazione adesso abbastanza delicata perché se dovesse perdere 8,72 ci sarebbe sicuramente spazio per una discesa importante devo mettere addirittura un mensile per avere un quadro più chiaro è perché il minimo storico è 8,69 quindi altro titolo da veramente prendere con tutti tutte le accortezze del caso poi continua a fare fatica trevi in realtà al momento non è ancora compromesso tutto il movimento direi che mi inizierei a preoccupare il momento di recupero mi inizierei a preoccupare sotto la media mobile a 50 0,27 32 perché a quel punto avremo uno 0,26 e mezzo per almeno uno 0,25 75 al momento c'è ancora la possibilità di un ritorno fino ai massimi che ha toccato giovedì a 0 31 e 3 poi fatemi vedere se trovo qualche altro titolo che abbia scambiato un minimo direi fin cantieri perché fin cantieri perché in realtà io ho voluto mantenere a tutti i costi il titolo anche se adesso sono in perita nel mio portafoglio medio-lungo periodo ho uno stop sotto 0,486 in realtà mi sembrava anche fosse impostato per tornare prima sulla media mobile a 100 e poi almeno fino al 0,53 massimo il primo di agosto oggi sinceramente è una brutta ingolfi in Berish e vediamo nelle prossime sedute abbiamo la media mobile a 50 0,5035 poi abbiamo questo 0,50 però non ho ancora perso tutte le speranze per quanto riguarda fin cantieri poi per il resto direi che abbiamo altre storie di giornata ma con volumi sicuramente non eclatanti domani probabilmente riusciremo ad analizzare più titoli se volete una replica del video che ho caricato sul canale post chiusura mercati azionari ricordate i 300 like nei commenti scrivete sempre perché qualche imprecisione può capitare a me perché la mia attività principale è fare il trader noi ci risentiamo anche se al momento direi siamo incerti se risentirci domattina prima dell'apertura del mercato diurno auguro una buona serata a tutti grazie a tutti